Musica Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa pre-gara di Benevento Turris. Siamo in diretta su 8 Channel, canale 16 in compagnia di Mr. Ghetano Teri. Iniziamo subito con le domande. Ivan Calabrese, 8 Channel. Prego. Salve mister. Salve. Domani si chiude un trittico piuttosto intenso. Come ci arriva la squadra e poi un pensiero anche sulla Turris che riduce da un buon momento di forma. Grazie. Si chiude una settimana in cui saremo alla terza partita. Quindi prima di ogni altra considerazione dobbiamo fare un po' il conto di chi sta meglio fisicamente. E da questo punto di vista non ci sono problematiche particolari. Valuterò attentamente fino alla fine, parlando anche individualmente con i calciatori, perché domani è una gara importante, come le sono tutte, ma di volta in volta è così. E quindi bisogna presentarci nella migliore forma, nel migliore aspetto possibile. Perché di fronte avremo una squadra che ci impegnerà, è una squadra che è diventata molto solida ultimamente e che ha anche un buon organico. Luigi Trusio al mattino, prego. Mister, le faccio più o meno la domanda della scorsa settimana. Adesso sono trascorse già due partite di questo trittico. Magari è cominciata ad affiorare un po' di stanchezza in qualche calciatore. Lei l'ha osservati sicuramente in questi pochi allenamenti che avete potuto fare. Quindi ci potrebbe essere magari qualche novità, un po' di rotazioni per far rifiatare qualcuno o magari per dare anche la possibilità invece a chi merita e si allena bene di poter dare il suo contributo. Questo l'ho detto, è probabile che qualche cambiamento lo faremo, fermo onestando che abbiamo in ogni ruolo dei giocatori che sono molto competitivi. Quindi valuterò fino alla fine, chi dà più garanzie dal punto di vista fisico, però abbiamo possibilità di scelta, secondo me, senza alterare nulla nel valore e nella forza di questa squadra. Quindi questo aspetto sarà ponderato bene perché essendo la terza partita in otto giorni è necessario fare questo tipo di valutazioni. Poi le volevo chiedere, la Turris è un avversario che guardando la classifica forse non dovrebbe destare molte preoccupazioni, ma in realtà se andiamo a vedere i risultati nello specifico vengono da una serie positiva di quattro partite, fuori casa l'ultima l'hanno persa più di un mese fa e oltretutto hanno fermato delle big come l'Avellino, come anche il Catania. E quindi, insomma, è una squadra che in qualche modo deve farvi tenere alta l'attenzione, il livello di concentrazione. Quali possono essere i pericoli e i rischi da non correre in questa partita? Queste affermazioni noi abbiamo fatto delle riflessioni, io le condivido, le condividono anche i ragazzi, sanno cosa andremo a trovare di fronte. L'ho già detto prima, la Turris è una squadra che ha un certo modo di stare in campo, un certo tipo di atteggiamento, viene da un periodo positivo. Ci aspetteranno alcune situazioni a cui ci dobbiamo fare trovare pronti, perché cercheranno sicuramente di creare grande densità nella loro metà campo. E poi ci hanno questi due giocatori, i Cubano e il Gernone, con caratteristiche complementarie, a parte che possono anche giocare altri, uno cerino, eccetera. È una squadra competitiva, una squadra che difende bene, una squadra... E sarà una partita in cui noi dobbiamo mantenere la lucidità, indipendentemente dal fatto che si possa sbloccare più o meno, E fare una partita importante seguendo le prestazioni che abbiamo fatto, perché nell'ultimo periodo siamo stati continui. Oddio, a dire la verità, lo siamo stati anche prima. Poi magari quando si perdono le partite, vedi Monopoli o Catania, dove alla fine potevamo fare meglio, o ci poteva dire meglio, ma non serve dirlo. O vedi anche quella di Crotone, dove la pareggi senza giustificazioni o senza situazioni in campo, in cui noi abbiamo sofferto iniziative particolari da parte loro. Abbiamo giocato un'ottima partita, unica pecca sul 2-0, per 15 minuti l'abbiamo tenuto in pugno, poi gli abbiamo dato un po' di coraggio a loro, perdendo alcune distanze in campo. E nel primo tempo abbiamo concesso due situazioni, più che per demerito nostro, che per merito loro. Una pronta in via, il colpo di testa su cui non si è anche stato bravo, ma un traversone di controbalzo, dalla bandiera del calcio d'angolo che si è impennato 20 metri, ma è stato un aggiramento importante. E quella alla fine del primo tempo, dove abbiamo sbagliato qualcosina. Quella partita l'abbiamo fatta contro una squadra forte, lo ripeto, che non dovrebbe avere quei punti, secondo me poi i motivi non lo so, perché come valore il Crotone è una squadra molto più forte, tecnicamente, e come caratura proprio di squadra. E ne abbiamo fatto una buona partita. Poi ci sono delle condizioni che sono irripetibili, vedi sul 2-0, 83-84, facciamo il 2-2, ma non ci sono motivazioni particolari. Non è che abbiamo sofferto, sono stati fatti episodi, dove a volte su quelle situazioni ti dice bene, a volte ti dice male. Quindi, voglio dire, noi stiamo bene. Poi domani sarà un altro tipo di partita importante. Ho già detto che valuteremo tutto quello che c'è da valutare dal punto di vista fisico, ma all'interno di questo organico abbiamo giocatori freschi e giocatori di pari valore a quelli che ultimamente hanno giocato. Per cui se faremo qualche cambiamento non sposterà assolutamente il valore e la consistenza della squadra. Gianluca Napolitano, NTR24. Salve mister. Tornando sempre un po' alla gara della settimana scorsa, cioè della settimana, di due giorni fa con il Crotone, ecco, le volevo chiedere, al di là della, se avete analizzato ovviamente quei minuti finali, però io ho avuto l'impressione, insomma, le chiedo questa cosa, che Benento ci è abituato in questo campionato a non aver pietà di nessuno, nel senso 2-0, 3-0, 4-0. Forse sul 2-0, più che i 20 minuti, che poi abbiamo, insomma, avuto i 20 minuti, poi mettiamo i 3-4 minuti finali, poi alla fine, che la squadra sul 2-0 non è riuscita a dare il colpo di grazia? Vuoi perché un po' si è un po', mi lasci andare la parola, specchiata nella sua bellezza? Perché insomma abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti per poter... Ma a parte le occasioni, dopo il 2-0 noi abbiamo continuato per 15 minuti mettendoli in grande difficoltà, pressando, non facendoli giocare, loro sono andati un po' in difficoltà, dopo, siccome eravamo in quel momento totalmente padroni della partita, abbiamo dato un po' di coraggio a loro commettendo degli errori di tipo tecnico, non di atteggiamento, di tipo tecnico, dove poi abbiamo recuperato immediatamente le posizioni, dove lì invece tu devi imparare a essere, perché ogni palla è determinante, lì abbiamo dato un pochino di coraggio. Qualche fase dopo della partita abbiamo pensato a quel punto di gestirla, quindi ci siamo semplicemente allontanati dai due difensori centrali invece di essere più corti, più aggressivi, più compatti, ma tutto questo perché noi lo facciamo, andiamo a cercare il pelo nell'uovo, ma di occasioni vere loro. Non è che noi abbiamo sofferto, ci hanno messo sotto, hanno creato situazioni pericolose in continuazione, assolutamente, anzi, nel momento in cui, dopo il 2-1, è stato proprio il momento in cui la stavamo gestendo meglio, perché non riuscivo in articolare i giochi, perché eravamo sempre compatti, per un fatto casuale abbiamo preso il gol del 2-2, ma io ero tranquillo, certo che quando perdi dei punti così, alla fine, ti rimane per un attimo il rammatico, però la prima cosa che ho detto, entrando negli spogliatori, ragazzi, ragazzi, si va avanti perché alcune situazioni devono portare degli insegnamenti, ma non ci sono motivi tecnico, tattici, oggettivi per cui quella partita noi l'abbiamo recuperata, così come non ci sono grandissimi meriti da parte dell'avversario. Sì, a un certo punto ci abbiamo dato un po' di coraggio, perché lo abbiamo alimentato noi, invece lì avremmo dovuto essere perseveranti nell'andare a chiudere totalmente la partita, ma ci serve per imparare. Poi giusto, parlando di qualche singolo, se Perlingieri ha recuperato quel problema? Sì, sì, Perlingieri ha recuperato, abbiamo preferito non evitare i rischi, che potevano esserci oppure no, ma potevano esserci, quindi quando un giocatore non è al 100%, impiegarlo, magari non ti dà il massimo e magari soprattutto rischia di farsi male, se si fa male in quel momento, poi dopo magari rischia di perderlo per un mese, perché all'interno di questo organico abbiamo giocatori che hanno caratura importante. Roberto Corrado, Cronaca e del Sannio, prego. Mister, buonasera, domani c'è la Turris, proprio contro la Turris ha avuto inizio la sua seconda avventura a Benevento e provando a fare un rapidissimo bilancio di questi lunghissimi dieci mesi, rifarebbe ogni scelta fatta? Intanto sono due campionati diversi, io penso che sia nel campionato appena concluso che in quello che abbiamo appena cominciato, in queste due squadre ci sia un percorso di crescita, è quello su cui noi ci dobbiamo basare, poi porsi degli obiettivi oppure fare delle affermazioni che riguardano che noi lotteremo, signori è il campo quello che decide, quando le squadre si affrontano e si misurano lì e io sono sempre abituato a giudicare il merito, cioè la prestazione della squadra, ve l'ho detto tante volte, perché se tu fai le prestazioni qualche volta ti può non dire bene vedi sorrento, ma la maggior parte delle volte invece il risultato ti sorride. Noi su quello ci dobbiamo concentrare, ma in questo percorso di crescita credo che ci sia stato e noi lo dobbiamo continuare a fare. Alessandro Maglione, Anteprima24, prego. Mister, lo so che lei sicuramente non guarda la classifica, non guarda le altre partite, però insomma i risultati degli anticipi hanno sorriso al benevento. Le chiedo se questo pagare può cambiare l'approccio per domani, insomma influire in qualche modo? Me l'hanno appena riferito, lei vuol dire che il Cerignola ha pareggiato, il Giuliano ha vinto e l'Avellino ha perso? Non mi piace perdere le energie, noi gli avversari che affronteremo, Avellino compreso, ci penseremo la settimana che li dovremo incontrare, quindi per ogni squadra il nostro pensiero, le nostre energie sono due volte l'anno, quindi andata, perché ci sarà un'andata e ritorno. Quelle che le abbiamo incontrate avranno una sola volta il nostro pensiero e le nostre energie, per cui non serve andare a dare né giudizi né a commentare altre cose. Edoardo Porcaro e il Sannita, prego. Sì, mister, sempre a proposito della Turris le chiedo, comunque c'è una situazione, diciamo che stanno vivendo i Corallini, non proprio perfettamente in linea, però mentalmente si sono riusciti comunque i calciatori a estranearsi da questa situazione. Come si fa a rimanere comunque lucidi e a badare solo a giocare? Ma questo lo fanno, perché intanto stanno in un contesto calcistico, Toro del Greco, sempre le piazze del Napoletano, sempre molta passione, poi dopo credo che le cose le risolveranno, ma comunque è tutto da vedere, è tutto da dimostrare, noi non possiamo andare a pensare a queste cose, noi ci dobbiamo concentrare su noi stessi e sulla pressale che domani incontreremo, sulle caratteristiche che hanno, ci siamo preparati bene, abbiamo avuto anche dei giorni per poterci preparare, domani mattina faremo un'ulteriore rifinitura e continueremo a prepararci e le loro debolezze, le loro qualità le abbiamo messe a fuoco, poi la partita la dobbiamo giocare e sappiamo come fare, ho già detto prima che non è che ci sono partite determinanti, però adesso le partite sono importanti tutte, perché? Perché ti permettono di costruire nel medio futuro o nell'immediato presente una classifica a cui adesso non bisogna dare conto, ma soprattutto degli step, degli obiettivi che noi dobbiamo percorrere. Luigi Trusio, il mattino, prego. Per chiudere ti volevo chiedere un attimo una sorta di analisi anche su quella che può essere la partita di domani in funzione di quello che si aspetta dalla Turris, nel senso che si aspetta una partita di una squadra che verrà a giocare chiusa oppure si aspetta una partita di una squadra che se la giocherà a viso aperto, sbarazzina, diciamo quella che finora si è vista in tante partite, perché poi molte squadre con il Benevento tendono un pochino a cambiare atteggiamento, magari perché lo studiano, mentre in questi casi a volte vediamo gli avversari spesso e volentieri snaturarsi un pochino. Ma secondo me più andremo avanti, loro hanno caratteristiche di squadra molto solide e molto compatta, questa solidità, questa compattezza la fanno, la ottengono perché? Perché non è una squadra che subisce tanto attraverso una grande densità nella loro metà campo, quindi il tipo di partita che io mi aspetto sarà quello contro una squadra che ha valore, consistenza fisica e difensiva. e anche situazioni importanti e qualità importanti in avanti, quindi noi dovremo essere come al solito, come in tutte le partite, solidi, equilibrati, pronti, pronti nelle transizioni, nella perdita del possesso e dovremo essere bravi e capaci nell'andare a velocizzare il gioco d'attacco, nell'andare a creare situazioni importanti e nell'aumentare la nostra pressione offensiva. Questo è il tipo di partita che dobbiamo fare. Bene, la conferenza stampa termina qui. Grazie mister, buonasera da tutti. Grazie a tutti.